Un appello alla città affinché in qualche modo diano riscontro a chi tutti i giorni o chi comunque sta cercando di portare dell'entusiasmo attraverso il calcio. L'appello del presidente del maestre calcio Stefano Serena è condito da parole provocatorie che esulano dal mondo del pallone. A maestre manca un'identità precisa, nota, è ora che questa città si risvegli. La fatica che la società e il sindaco Brugnaro hanno fatto per riportare la squadra allo stadio Baracca non deve cadere nel vuoto. L'operazione che è stata fatta non è un'operazione semplice. Ha richiesto e richiede tuttora una serie di risorse, non soltanto economiche ma anche di risorse umane che si stanno impegnando tutti i giorni. Mi farà piacere che ci fosse maggior interesse e coinvolgimento da parte dei tifosi. Ci auguriamo, conclude Serena, che la fedeltà ai colori cittadini non si limiti ai pochi appassionati che hanno seguito la squadra nelle scorse stagioni. Se prima a Mogliano sembrava per qualcuno essere un problema alla distanza, che si ripeto essere soltanto distante 7 km, quindi non lo ritengo una scusa, oggi non avrebbero neanche questa scusa. Ma chiaramente la mia è un po' una provocazione. Ripeto, sono un mestrino, se ho fatto questo tipo di operazione è perché tengo a cuore le sorti del mestre, calcio, ma anche del mestre, comicità, che secondo me se lo merita. Grazie 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 a tutti.